Anche Arezzo ha festeggiato il Marte di Grasso che ha così fatto calare anche quest'anno il sipario sul Carnevale. Nel centro storico maschere, trenini ed ovviamente coriandoli per un giorno di festa dedicato sia a grandi che a piccini. È stata infatti la centralissima piazza Sant'Agostino ad ospitare il Carnevale Day, l'iniziativa promossa dai commercianti assieme a Confesercenti e Confcommercio. In piazza sono così sbarcati il Carnevale Aretino per eccellenza, quello dell'Orciolaia e le splendide maschere dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi. Ad animare il pomeriggio ci ha pensato la musica dal vivo di Giuseppe Marconi assieme alla splendida voce di Sabrina. La festa poi è proseguita sino a sera, dalle 21 a mezzanotte la piazza ha infatti festeggiato con il DJ set di Fabri Flake. In questa iniziativa le due associazioni di categoria del commercio, Confcommercio e Confesercenti, insieme ai commercianti, si sono unite per questa iniziativa. La città è viva, ha voglia di vivere, soprattutto in questo momento. I commercianti si mettono in prima linea per far vivere la gente, per portare la gente ancora nel centro storico. Quindi noi ci siamo e ci saremo adesso e nel futuro.